Fiaso, qual è il ruolo e come sta evolvendosi proprio per i temi della ricerca, anche l'apporto di Fiaso? Fiaso è la federazione che raggruppa il più gran numero delle aziende sanitarie e ospedaliere, degli IRCS in Italia, circa 130 su 190 ed è sempre centrata sullo sviluppo di una cultura manageriale che serva a coniugare qualità, sostenibilità e a rendere possibile che le politiche che vengono esplicitate, che vengono legittimate poi diventino elementi fattibili. La ricerca in questo senso è una cosa che abbiamo preso in un secondo tempo, tant'è che gli IRCS per esempio sono entrati fra le aziende solo all'inizio degli anni 2000, con molti anni di distanza dalle aziende ospedaliere universitarie e aziende ospedaliere del re. e ci siamo resi conto che la ricerca è anch'essa un elemento da gestire ma che via via sta assumendo un ruolo strategico nella programmazione e nel sviluppo delle nostre aziende e quindi diciamo anche in collaborazione con Farmo Industria abbiamo in questi anni approfondito i temi di come le direzioni generali riescono a spingere affinché la ricerca diventi un asset importante di produzione di ogni azienda. La sinergia con Fadoi quanto può aiutare anche per una riflessione costante sull'importanza della ricerca? Fadoi è proprio nei suoi due loghi, è un elemento di congiunzione fra lo squisito professional scientifico che ha bisogno di un approccio scientifico con il gestionale manageriale proprio perché costitutivamente il medico internista rimane un punto di raccordo all'interno della struttura sanitaria anche di tanti altri professionisti e dà l'abitudine di mettersi a contatto con il paziente. Fadoi quindi collabora con noi sul tema dello sviluppo del middle management intendendo la parte del Fadoi, quello dei direttori di dipartimento e arricchisce sicuramente il punto di vista della classe dirigente manageriale delle aziende proprio con questa sua capacità di rappresentare sia la cultura professionale che la cultura manageriale. Come è importante che ci siano dei nuovi modelli organizzativi e gestionali nella ricerca? Io gestisco NIRCS, quindi sono anche direttore generale, ne ho gestiti altri due. L'uso del dato per esempio della ricerca nella clinica, specialmente il dato che nasce nella clinica della ricerca è estremamente difficoltoso. Allora è un problema manageriale, è un problema gestionale, è un problema dei sistemi informativi certo ma è un problema di cultura da diffondere nei dirigenti medici e non solo perché ora ci sono anche gli infermieri di ricerca, i tecnici di radiologia di ricerca proprio di diffondere l'idea che quello che fai può essere importante per arricchire una ricerca che è relativa a un problema di cui forse tu non sei stato chiamato direttamente. E allora l'azienda ha una necessità assoluta di avere un manager che sappia valorizzare l'aspetto della ricerca come un elemento di studio sull'innovazione e quindi mi sono rifatta all'innovazione organizzativa che però non è più solo organizzativa ma è anche un modo diverso di vedere. Per esempio il paziente, il chronic care model, il modello assistenziale del cronico richiama necessariamente la centralità del paziente come un soggetto che ha il suo potere e le sue capacità che devono essere rafforzate. Ebbene quindi quando si parla di ricerca e la persona, come oggi facciamo in questo convegno, l'azienda offre la cultura di chi si è posto il problema, di qual è il punto di vista del paziente in un percorso diagnostico-terapeutico. Cosa impariamo dalla sua esperienza? Impariamo dall'esperienza del paziente per riorganizzare, per fare innovazione e quindi questo diventa un elemento che rafforza molto l'approccio che Fadoia ha dato a questo quinto congresso. Adesso con il regolamento europeo EIDAS che impatta sulla privacy. Quali saranno anche gli sviluppi e poi visto che ci sono delle restrizioni sul nuovo regolamento europeo per la gestione anche della ricerca, come ci si deve rapportare? I nostri politici dovrebbero essere più attenti alla strategia? Ma io penso, oggi parliamo di Facebook, forse faccio un volo da un'altra parte, che le regole esistevano e non sono state applicate e che il nuovo regolamento europeo che sta per entrare sui social aggiunge la parte sanzionatoria che manca spesso. Allora io credo che i nuovi regolamenti che stanno arrivando chiaro approfondiscono le culture che sono di prima, decisioni che sono state già prese e creano principalmente il quadro sanzionatorio che è quello che ci preoccupa di più. Non credo che possiamo separare la ricerca dal resto della sanità e dell'assistenza. Nella sanità questo problema dell'uso del dato e del consenso del paziente, del big data, è un tema che già esiste per tutto e quindi il management ha già la percezione può essere un grande alleato in chi si vuole occupare della ricerca e gli dobbiamo dire non vederlo come un tuo problema separato, ma vederlo come un problema di relazione col paziente, che è una relazione contrattuale in cui il rappresentante dello Stato, chi mette la faccia rispetto al paziente è l'azienda, è il direttore generale.